Cerimonia di premiazione in Consiglio regionale dei vincitori della nona edizione del concorso di scrittura Piemonte Mese. Rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, il concorso premia articoli inediti scritti in lingua italiana su argomenti legati al Piemonte. 193 gli articoli presentati, di cui 119 per la sezione Cultura e 74 per quella dedicata a enogastronomia, economia, ambiente.